Per assegnare le aziende ai profili di accesso in ePassam Manager, cliccare sul pulsante Utenti e profili di accesso, quindi su Profili di accesso alla porta. A questo punto, selezionate il profilo di accesso dell'azienda e fate clic su Aggiungi un utente. Inserite il nome dell'utente e completate i campi restanti. Quindi fare clic su Aggiungi una credenziale e controllare tutti i dettagli. Infine fare clic su Salva. Il nuovo utente dovrebbe apparire sotto il profilo di accesso dell'azienda insieme al tipo di credenziale.